Consigliere Pettinari, siamo nel quartiere Gescal di Pescara, non si parla di problemi di ordine pubblico ma della questione che riguarda il riscatto degli inquilini di queste abitazioni proprio in via Pineta di Roio. Sì, intanto queste sono case Gescal, quindi pagate con i contributi dei cittadini che poi hanno ottenuto appunto l'assegnazione. Quindi sono case dove ci sono persone disponibili, anzi dovrebbe andare in automatico il riscatto perché sono persone che ne hanno diritto e l'amministrazione regionale deve farsi carico di questa procedura a nostro avviso. Loro lo chiedono con forza, vogliono il riscatto e sono disponibili anche poi a rimboccarsi le maniche a risolvere i problemi di manutenzione e quant'altro. Ma se così non dovesse essere purtroppo, sottolineo purtroppo, allora comunque bisogna intervenire effettivamente sulla manutenzione perché qui ci sono infiltrazioni d'acqua, strutture portanti pericolanti, mancano gli ascensori, ci sono cittadini disabili, anziani che non riescono a scendere dalle case popolari perché non hanno l'ascensore quindi problemi di manutenzione che vanno sistematicamente, quotidianamente messi in programma. Purtroppo, ancora una volta, nonostante noi abbiamo chiesto fondi, 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 fondi da parte dell'amministrazione regionale mancano i fondi e non si provvede la manutenzione di queste case popolari. Ma ripeto, loro sono disponibilissimi al riscatto. Procedesse immediatamente la regione con le procedure per il riscatto e consegnare a questi cittadini la possibilità di maturare quello che hanno pagato e quindi completare con l'acquisizione completa nella loro proprietà. Stiamo parlando di decine e decine di appartamenti e centinaia di persone che vivono qui da tanti anni. Sì, qui ci sono oltre 400-500 persone, ma di più ce ne sono, che vivono in questa situazione, non ce la fanno più. Questa mattina si sono riuniti qui con noi, ne eravamo oltre 50, hanno manifestato tutta la loro sofferenza, il loro dolore e soprattutto il loro sconforto nei confronti di chi ha sempre promesso, è venuto qui a promettere, a promettere. Noi non siamo mai venuti in campagna elettorale, non verremo in campagna elettorale. Ci siamo quando ci sono i problemi.